in questa quarta domenica del tempo ordinario noi partiamo dall'ascolto della vocazione di geremia geremia viene chiamato prima del grimbo materno per diventare profeta delle nazioni e cosa vuol dire diventare profeta stringere la veste ai fianchi dice vuol dire essere pronto a partire alzarsi e dire loro tutto ciò che io ti ordinerò cioè il profeta è colui che porta la parola di dio e cosa gli deve dire dio al nostro geremia non spaventarti di fronte a loro altrimenti sarò io quello che ti farà paura cioè devi stare dalla mia parte resta dalla mia parte non ti spaventare temi più me che non loro perché io faccio di te una città fortificato una colonna di ferro un muro di bronzo e perché queste caratteristiche perché questo tema della paura addirittura il testo termine dicendo ti faranno guerra ma non ti vinceranno io ti salverò perché tutta questa guerra attorno a questo profeta è perché questo è profeta questo è il punto un profeta che cos'è è uno che ci deve venire a fare l'oroscopo per dirci che ci andrà bene che faremo degli incontri che ci aiutano e tutte quelle insulsaggini da oroscopo ecco noi vediamo quello che succede a gesù nella seconda parte di questa liturgia della parola con cui si apre il suo ministero pubblico nel vangelo di luca a nazareth lui proclama una parola che si è compiuta che in lui trova appunto compimento e tutti iniziano a dire ma questo è il figlio di giuseppe ma chi si crede di essere ma cos'è questa roba e sono meravigliati sono disturbati questo testo che viene tradotto gli davano testimonianza ed erano meravigliati della parola di grazia sembra positivo ma in realtà il termine greco che c'è sotto indica quella testimonianza dell'accusatore gli danno testimonianza contro infatti gesù parte con un discorso duro serio perché è stato rifiutato c'è poco da fare nazareth è una città strana a nazareth si dà la fede in maria a nazareth si dà l'incredulità tutti i vangeli attestano questa realtà che a nazareth gesù non fu creduto ed ecco qui il problema perché non fu creduto perché quel che diceva non era secondo il loro gusto e infatti lui parlerà dell'esempio di quelli che accolgono la parola che molto spesso sono degli estranei quelli che non la sanno lunga quelli che non sono preparati quelli che non sono israeliti si parlerà della vedova di sarepta di sidone o di naman il siro che viene purificato dalla lebra perché questa cosa importante addirittura questa scena terminerà in un tentativo di omicidio da parte della folla nei confronti di gesù addirittura così male è andata e che cosa è successo è successo che si è data la profezia anche geremia viene perseguitato e tentano di ucciderlo ecco gesù alla fine sarà ucciso per proprio per questa profezia perché ma che cos'è un profeta cosa deve dire deve compiacere deve rassicurare se un profeta è un profeta per sua natura deve destabilizzare bisogna accettarlo sempre e comunque perché perché se come dice il profeta isea le vostre vie non sono le mie vie i vostri sentieri non sono i miei sentieri dice dio sempre quando dio mi parla mi dovrà dire qualcosa di diverso da quello che io penso altrimenti non è dio che mi parla altrimenti sono io che me la canto e me la suono il profeta deve sempre farmi dare un colpo d'ala nel migliore dei casi e liberarmi o offrirmi la via d'uscita dalla mia mentalità io non posso ascoltare dio e metterlo nella scatoletta del mio cervello non posso pretendere di andare alla liturgia e andare per esempio alla santa messa e aspettare che la parola di dio semplicemente mi lasci tranquillo noi dobbiamo lamentare che molto spesso noi cristiani abbiamo trasformato la parola di dio in uno zuccherino in un cioccolatino in una cosa che si può addomesticare e quello che è un gattino in realtà è una tigre e quello che aspettiamo che ci faccia le fusa in realtà ci deve un po' graffiare è un po' preoccupante pensare di stare davanti alla parola di dio e non essere messi in discussione è come se dio abbia smesso di lavorarci abbia smesso di tenerci a noi la parola di dio mi deve sempre mettere in difficoltà perché mi deve far camminare molto spesso la difficoltà in cui mi mette proprio la mia consolazione cioè ciò che mi fa tornare in me rispetto al mio sconforto al mio scoraggiamento mi deve far vedere un'altra prospettiva che mi mette gioia ma questa gioia implica che io abbandoni la mia mentalità possiamo pensare allo stesso vangelo di luca dove compare gesù da risorto ai discepoli di emmaus che deve dire a loro stolti e tardi di cuore nel credere alle profezie lui annunzierà loro una cosa bellissima ma loro per credere questa cosa bellissima devono smettere di credere a quel che pensano quando l'uomo deve essere corretto o quando l'uomo deve essere consolato comunque deve uscire dalla sua mentalità per questo sempre la parola di dio ci deve destabilizzare è molto importante che noi entriamo nella liturgia aperti a farci mettere in discussione il profeta non può che cercare in noi quel che è da evolvere da fare nuovo da portar fuori da una schiavitù sempre dio interverrà per dire cose grandi e belle dio non interviene per dirci cose da scoperta d'acqua calda non potrà mettersi davanti a noi con comunicazioni addomesticate tante volte nella preghiera sia di fronte alla parola di dio e bisogna superare quel piattume quel grigiume per cui uno crede di averla capita crede di averla già assimilata no mai non succede mai questo ogni volta che noi siamo di fronte alla parola di dio dice un antico saggio ebreo è come se fossimo sulle rive del mar rosso il mare si aprirà i nemici verranno e ci raggiungeranno arriviamo davanti alla parola di dio dovendo sempre prendere in mano l'aspetto drammatico della nostra vita quel che c'è da da scoprire quello in cui abbiamo bisogno di essere visitati e salvati se noi stiamo di fronte alla parola di dio come il luogo dove dovremmo ricevere delle astrazioni delle informazioni che ti dillino la nostra intelligenza e allora veramente abbiamo vanificato la parola di dio dobbiamo lamentare che tante volte abbiamo un'estrema concettualizzazione della parola di dio non la comunichiamo come un'opera di dio in corso ma come un concetto da capire come un'astrazione da contemplare una volta che abbiamo contemplato questa strazione la nostra vita resta esattamente identica prima no dio vuole operare con noi vuole lavorarci questo è la parola che noi riceviamo quella parola efficace che appunto chiede di essere accolta ed è qui il dramma che vediamo nel vangelo la parola può essere rifiutata noi possiamo rifiutare la parola noi possiamo vanificare ciò che dio ci dice ecco facciamoci saggi facciamoci piccoli facciamoci poveri facciamoci stupidi davanti a parola facciamoci dire da capo le cose c'è sempre altro da scoprire c'è sempre altro che dio deve fare con tutti noi